Cosa succede e soprattutto quanto deve pagare l'aggiudicatario nel caso in cui per dimenticanza sua del delegato o del giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento non contenga la dichiarazione di voler usufruire delle agevolazioni prima a casa? Ne parliamo in questo video con l'avvocato Maria Federica Bruni che proprio in questi giorni ha dovuto affrontare il problema riuscendo a risolverlo nel migliore dei modi. Sebbene l'aggiudicatario cliente dell'avvocato Maria Federica Bruni nella propria offerta avesse indicato di voler, dichiarato di voler usufruire delle agevolazioni prima a casa nel caso in cui appunto si fosse reso aggiudicatario, il delegato ha poi dimenticato di inserire nella bozza del decreto di trasferimento rimessa al giudice delle esecuzioni le dichiarazioni dell'offerente resosi effettivamente aggiudicatario. Il decreto di trasferimento è stato così sottoscritto e quindi inviato dalla cancelleria all'agenzia delle entrate senza che contenesse tale richiesta di esenzione. È chiaro quindi che in fase di pretassazione gli oneri fiscali a carico dell'aggiudicatario siano stati conteggiati calcolando l'aliquota al 9% e non al 2%. Per fortuna al momento della comunicazione delle tasse da pagare effettuata dal delegato all'aggiudicatario l'avvocato Maria Federica Bruni si accorta del qui pro quo. Ma cosa fare a quel punto? Allora innanzitutto mi si poneva il problema di capire se l'aggiudicatario fosse ancora in tempo per porre rimedio ed ottenere una rettifica della pretassazione e ancora di più quello di individuare una soluzione velocissima, tempestiva, ovvero prima che decorressero i 20 giorni per corrispondere alle imposte ed ottenere la registrazione. Questa esigenza di celerità mi ha indotta ad escludere a priori dal procedere, sempre se possibile, con il depositare un'istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere l'integrazione del decreto di trasferimento. Mi sono allora recata all'Agenzia delle Entrate dove ho appreso della possibilità di presentare e produrre una dichiarazione sostitutiva attestante alla sussistenza dei requisiti per poter usufruire dei benefici fiscali, sottoscritta dall'aggiudicatario e con firma autenticata dal notaio o da un funzionario comunale, dichiarazione con la quale l'ufficio competente poteva provvedere tempestivamente alla rettifica della pretassazione. Il mio cliente ha ovviamente scelto la seconda strada ed ha corrisposto infatti 1.200 euro piuttosto che 4.500 euro a titolo di imposto di registro. Brava Federica, sono sicura che se l'aggiudicatario non avesse avuto al suo fianco un avvocato come te avrebbe finito per pagare il triplo. Bene, ora sapete che nel caso in cui nel decreto di trasferimento per dimenticanza del delegato non viene inserita la richiesta di agevolazioni prima casa, la cosa è risolvibile fino al momento della registrazione dello stesso decreto presentando con una spesa ulteriore di appena 16 euro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ma se l'avvocato Bruni non si fosse accorta del problema e il suo cliente aggiudicatario avesse pagato la somma comunicata gli dal delegato avrebbe perso i soldi? Beh, forse avrebbe potuto chiedere il rimborso. Ma in ogni caso se per qualunque ragione la sua istanza non fosse stata accolta e forse in questo caso si sarebbe potuto parlare di responsabilità del delegato con condanna nei suoi confronti a pagare all'aggiudicatario la differenza. Questo perché il delegato prima di predisporre la bozza dovrebbe fare una serie di verifiche proprio per evitare eventuali integrazioni. C'è però da aggiungere che in effetti l'offerente non può limitarsi a sottoscrivere nell'offerta la volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali e una volta resosi aggiudicatario dovrà necessariamente presentare la dichiarazione sostitutiva in cui oltre che al desiderio dovrà espressamente manifestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti per poter usufruire di queste agevolazioni. Se l'aggiudicatario dimentica di allegare quest'ulteriore atto può farlo come abbiamo visto fino al momento della registrazione però non può pensare che ci sia una responsabilità del delegato. Cos'altro aggiungere? Niente. Se non che se avete trovato utile questo video continuate a seguirci e magari premiateci iscrivendovi al nostro canale. E sappiate in ogni caso che se anche voi avete avuto problemi con le agevolazioni prima casa dopo l'aggiudicazione di un immobile e desiderate avere una consulenza specifica sull'argomento potete andare sul nostro sito e inviare la richiesta tramite l'apposito modulo. Arrivederci.